Eccoci qui, adesso lascio la parola ad una persona, non sarei lucida nella presentazione perché gli voglio troppo bene, oltre a stimarlo una persona veramente d'oro, Luigi. Grazie, grazie Carla, grazie a tutti per essere qui. Come avete potuto vedere ci sono tanti strumenti a disposizione delle imprese e ognuno di noi che è in un ente differente dal Parlamento europeo fino al Comune di Roma li conosce dopo un po' di attività in quelle istituzioni. Quindi sicuramente ci lasciamo oggi in questo incontro con la disponibilità a restare in contatto con chi è interessato ad utilizzare questi strumenti per agevolare l'utilizzo perché il vero problema di cui ci siamo resi conto, lo dicevano tante persone prima è che la mancanza di accesso alle informazioni ha fatto sì che tutta questa roba tutti questi fondi che arrivavano, miliardi di euro, andassero sempre nelle casse delle solite imprese dei soliti amici, delle solite persone che facevano proprio, erano proprio dei professionisti dell'accesso a questi fondi e in realtà tagliavano fuori sempre di più coloro che veramente ne avevano bisogno. Ultimamente ci vedete anche secondo me nelle apparizioni tv stressare molto il tema delle imprese. non è una fissazione. Noi siamo in un paese in cui il 99% come la media europea del tessuto produttivo è fatto da piccole e medie imprese, ma quello che si dice ancora di meno è che l'80% di questo 99% è fatto da imprese sotto i 10 dipendenti. E questo è fondamentale per capire a chi stiamo parlando in questo momento. Stiamo parlando alle famiglie italiane, come quella persona che prima parlava a telefono. Gran parte delle imprese di questo paese sono di ispirazione familiare. Molte provengono da un'ispirazione che nasce proprio dalla forza di una famiglia di mettersi in gioco. E se noi oggi presentiamo il progetto del microcredito, non pensiamo, come diceva Carlo all'inizio, di risolvere tutti i problemi. Vi do qualche numero. In un mese e mezzo sono 398 le imprese. Io dico un mese e mezzo perché dal primo agosto di quest'anno sono scaduti i termini da quando si erano aperti per erogare il microcredito. Quindi dal primo agosto tutte le imprese che ne avevano fatto domanda e avevano diritto dovevano cominciare ad averlo. C'è un problema di erogazione di questo microcredito che stiamo risolvendo grazie agli incontri che sta facendo Carla ed altri con le banche, con i grandi gruppi, che nei prossimi mesi agevolerà l'accesso perché noi abbiamo cercato di creare una filiera che permettesse il più possibile a chi non era abbezzo a questo tipo di strumenti di accedervi. Però 398 in un mese e mezzo di lavoro, 398 nuove imprese che in Italia ho nuovi progetti imprenditoriali che sono nati grazie ai soldi dei nostri stipendi. I soldi dei nostri stipendi tra leva finanziaria e una serie di meccanismi che si innescano serviranno a creare 8.000 nuovi progetti imprenditoriali in Italia. Secondo il Centro Nazionale del Microcredito, ogni microcredito erogato crea nel lungo periodo 2,5 posti di lavoro in più. Fate voi la moltiplicazione, 8.000 per 2,5. Cioè noi stiamo parlando qui di oltre 16.000 posti di lavoro, nuovi, che non servono sicuramente a risolvere tutti i problemi dell'Italia, però rappresentano quell'idea di paese che noi cerchiamo di raccontarvi con gesti concreti. Perché se noi oggi in due anni e mezzo, in 130 parlamentari in media abbiamo messo da parte 10 milioni di Euro. Questi 10 milioni di Euro, in futuro, se ci fosse un decreto che applicasse le nostre regole a tutti i politici italiani, potrebbero essere 2-3 miliardi di Euro, con i quali riesce a fare una seria politica per le imprese. Il microcredito non è lo strumento che risolve tutti i problemi delle imprese, parliamoci chiaro. Probabilmente se avessimo 4-5 miliardi di taglio dai costi della politica, magari abbasseremmo direttamente le tasse. Però ci serve a fare una cosa, che è importantissima. Noi non possiamo controllare il mercato. Uno Stato che si illude di controllare i processi del mercato, probabilmente si illude di non dover passare dal tubo catodico allo schermo al plasma. E questo probabilmente è impossibile. Però che cosa succede quando, faccio questo esempio banale, le imprese producevano il tubo catodico, le tv a tubo catodico e si sono ritrovate nel giro di pochi mesi, di pochi anni ad avere un mercato fatto di tv ultra piatte, oppure parliamo della videocassette del DVD. Che cosa succede? Che se ti trovi in un periodo in cui non hai liquidità, non puoi formare i dipendenti per il nuovo mercato e non puoi convertire la tua produzione. E questo che cosa genera? La morte di quell'impresa. Allora che cosa può fare lo Stato? Mica impedire che si acquistino nuovi prodotti di nuove tecnologie. No, questo non lo può fare, anche perché sarebbe malsano. Può fare una cosa importante. Da una parte, attraverso strumenti come il microcredito, magari erogati, che ne so, da una banca dello Stato italiano, senza doversi sottomettere agli sportelli delle banche private, che resterebbero in piedi ma servirebbero alle logiche di mercato. Una banca di Stato potrebbe servire ad orientare le politiche pubbliche. Che cosa può fare uno Stato col microcredito? Fornire all'impresa i soldi per convertire la sua produzione. E quindi avere la possibilità, sul lungo termine, di restituire quello che ha avuto dallo Stato a tassi bassi e senza garanzie reali. E allo stesso tempo di rilanciarsi in quel settore di mercato. Gli resta un problema. La formazione del personale. Perché la formazione del personale ha dei costi enormi, se la vuoi fare seriamente. Se invece vogliamo fare i corsi di formazione come li fanno le regioni, quelli siamo bravi a farli tutti quanti. Non servono quasi, quasi tutti non servono a niente. C'è qualcosa che serve, ma si sprecano fondi europei in corsi di formazione che non sono neanche legati alla richiesta di mercato, molto spesso. E quindi formiamo ragazzi per cose che non servono. Come si fa la formazione del personale? con uno strumento che si chiama reddito di cittadinanza, di cui noi parliamo sempre. Perché se io mi trovo in un mercato in cui sono costretto a licenziare dei dipendenti perché quel mercato non tira più, lo Stato deve formare quella persona che è stata a 30 anni sulla catena di montaggio a fare sempre la stessa cosa, ad un nuovo settore per reinserirla in quel nuovo settore. Così che cosa fa? L'impresa gli permette di convertirsi, al dipendente gli consente di convertire le sue competenze, e si incontrano nella nuova richiesta di mercato. È per questo che ai primi due punti del nostro programma nel 2013 abbiamo inserito reddito di cittadinanza e aiuti alle imprese. Perché sappiamo bene che in un mercato in cui l'80% del 99% delle imprese è fatto di piccole imprese, un'impresa con 10 dipendenti, è un'impresa che non ha grande liquidità, non è neanche bancabile, questo termine che sentiamo sempre, non ha molto spesso anche il settore per formare i suoi dipendenti e quindi si affeziona magari a vecchie idee di mercato che non sempre funziona. Perché diciamo tutto questo? Perché oggi noi invece abbiamo un paese che sta andando nella direzione opposta. Noi siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo. Noi abbiamo un più 0,7% di questo PIL, ma abbiamo Confesercenti che ieri ci dice che gli esercizi commerciali italiani segnano meno 2%, più 0,7% di PIL, meno 2% degli esercizi commerciali. C'è qualcosa che non va. E ve lo dico io che cosa non va. Ce lo dice veramente lo studio del loro centro studi. che tutto questo flusso di poca ricchezza in più sta andando verso i grandi megadistributori. Perché? Perché in questi anni si è seguita la logica della superliberalizzazione. Diciamo agli esercizi commerciali che possono stare aperti sempre e mettiamoli in concorrenza col centro commerciale. Che cosa hanno prodotto? Che l'esercizio commerciale non ha fatto incasso in più. Sta solo di più all'interno del suo negozio, colui che è l'esercente, e ha prodotto la distruzione dei nuclei familiari, la disaffezione dei figli alla famiglia perché non hanno più i figli a casa e ha prodotto semplicemente una perdita della qualità del lavoro. Allo stesso tempo si è permesso con fondi europei la costruzione di nuovi centri commerciali. Ricordiamoci che quei mostri enormi non starebbero in piedi se fossero finanziati solo da coloro che ci stanno dentro. Quei cosi funzionano perché accedono ai fondi europei sia per la formazione del personale e sia per la costruzione. Tant'è vero che molto spesso, almeno dalle mie parti, che è una delle zone della provincia di Napoli con la più alta densità di centri commerciali, lo vengono ad inaugurare cariche politiche perché ci sono più soldi pubblici che soldi privati. Questo che cosa ha fatto sì? Concorrenza sleale nei confronti della piccola impresa italiana. Inoltre, il Centro Studi Economia Reale ci dice che in questo momento se avessimo a settembre 2015 lo stesso costo del petrolio di settembre 2014 saremo ancora in recessione. Questo che cosa significa? Non voglio dare brutte notizie, voglio dire soltanto che se oggi siamo in positivo è perché dobbiamo ringraziare il costo del petrolio. Cioè, noi siamo ancora dipendenti terribilmente da un petrolio che sappiamo bene scomparirà a breve. Il Paese con il più alto potenziale da rinnovabili, Mattia Fantinati, ne ha fatto una battaglia continua è ancora dipendente nella sua economia dal petrolio. Allora, il microcredito che cosa può funzionare in un'ottica di governo? Anche a privilegiare la crescita di determinati settori di imprese, quelli dell'energia. Qui nessuno parla di piani energetici nazionali, nessuno ci sta dicendo, soprattutto questo governo, dove vuole andare a produrre energia. Uno dei più grandi problemi della competitività delle nostre aziende sono i costi dell'energia, anche della sopravvivenza delle famiglie, delle bollette che pagano. I costi dell'energia potrebbero essere calmierati se avessimo una politica energetica seria che ci dice, non domani mattina, ma da qui a dieci anni, che questo Paese può funzionare con le energie rinnovabili. Abbiamo il sottosuolo, l'86% del sottosuolo di energia geotermica e importiamo la maggior parte del gas dall'Azerbaijan e dalla Russia. E questo non è solo politica energetica, è politica estera. Perché quando poi vengono questi Paesi a dirci o sblocchi il trattato per le arance o sblocchi il trattato per far entrare i nostri prodotti o noi ti chiudiamo il rubinetto, tu non hai la libertà di dirgli vattene da dove vieni perché noi vogliamo proteggere il Made in Italy. Ed è questo meccanismo che ha innescato poi le scelte più scellerate di politica estera che potessimo fare, tra cui quella di andare a bombardare la Libia perché se no i francesi ci tagliavano i cavi dell'elettricità e non ci davano più energia. Quando noi parliamo di questi strumenti che sembrano piccolissimi, sono lo strumento con cui lo Stato può aiutare per esempio i giovani, le start-up innovative, Invitalia che dovrebbe essere l'agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico per stimolare le nuove idee imprenditoriali dei giovani prima che vadano in Germania o in Tunisia. Prima si parlava della Tunisia. La Tunisia sta offrendo alle nostre imprese italiane, ce ne sono molte che se ne sono andate lì, dieci anni senza tasse più altri dieci rinnovabili. In un paese che si trova a pochi chilometri relativamente da uno come il nostro che ha il 60% di tassazione se non più quando andiamo a calcolare. Allora Invitalia doveva essere l'agenzia che serviva a dare soldi pubblici non a fondo perduto, è perché anche noi abbiamo voluto tutelare col microcredito l'idea che l'impresa è fare business, ma se tu presti dei soldi non li devi prestare a dei tassi usuraio facendogli ipotecare la casa a quella persona, altrimenti non gli dai né la serenità e né la possibilità di restituirli, diventa un circolo vizioso in cui entra l'impresa. Oggi c'era uno studio interessantissimo che diceva come dopo la crisi del 2008 con la chiusura dei rubinetti del credito da parte delle banche ci siamo ritrovati con l'usura che è schizzata alle stelle. È logico perché poi l'imprenditore disperato o anche la famiglia disperata che non ha la possibilità di accedere al credito, alla fine nella disperazione fa la scelta più sbagliata che possa fare, rivolgersi alla criminalità organizzata, ma oggi l'usura è cambiata anche. Anche il parente che molto spesso ti presta soldi e poi vuole indietro il doppio dei soldi. Succede anche questo, ce lo dicono le associazioni anti-racket. Che cosa produce questo? Produce una serie di dinamiche sociali che portano all'esasperazione. Se poi in un paese come il nostro vediamo che in Vitalia, ve lo stavo dicendo, ad agosto 2015 chiude già i rubinetti e dice non ci sono più soldi perché il governo non ha investito, non ha fatto investimenti produttivi nelle start-up innovative, ci ritroviamo con ragazzi che avevano anticipato i soldi per aprire l'impresa, accedere al bando, gli era stato deliberato il bando e poi in Vitalia gli dice guarda non abbiamo più soldi, problemi tuoi. Questo che cosa significa? Non far partire da zero di nuovo la persona che stava investendo, ma da meno 30 perché ci aveva messo dei soldi sicuro che arrivava l'altro contributo da parte del Ministero dello Stato. Allora questo è un concetto di Stato non amico, noi a questo concetto vogliamo sostituire un'altra idea, uno Stato amico. Che cosa fa uno Stato amico in questo paese? Fa quello che diceva prima Mattia, comincia a drenare soldi o dalle cose che non servono o dalle cose che non si fanno. Si è parlato prima della contraffazione, sono circa 10 miliardi di euro all'anno, 8-10 miliardi di euro all'anno che lo Stato perde, perché oggi c'è una legge che da sanzione penale è diventata una multa per la quale se io dalla contraffazione guadagno 3 miliardi di euro e devo pagare una multa di 100 mila euro, io sono sempre inattivo, non ho nessun problema, altra storia se iniziamo a ragionare sui reati penali. Allora domani mattina a costo zero possiamo fare una legge ed è per questo che ci dobbiamo chiedere come mai non si faccia, possiamo fare una legge che riporta questo reato nel codice penale. Senza soldi ci dobbiamo riunire alla Camera e approvare una legge, non dobbiamo fare investimenti. Stiamo dicendo che entro dicembre recuperiamo 10 miliardi di euro? No, ma se recuperassimo 2 miliardi di euro all'anno e li mettessimo nella legge che ha presentato il nostro senatore Gianni Girotto sugli eco bonus, ristrutturazioni energetiche delle case, lo sapete se mettiamo 2 miliardi di euro all'anno, da qui al 2020 negli eco bonus produciamo 600 mila posti di lavoro nuovi in Italia, qui abbiamo un governo che si vanta di 40 mila posti di lavoro in più, stiamo parlando di un'altra scala dei posti di lavoro. Perché non si fa? Non perché sono incompetenti, io ho smesso di chiamarli incompetenti perché se tu li chiami incompetenti gli stai fornendo un alibi, l'incompetenza politica è un alibi. Qui esiste la mala fede, sono diabolici nel modo in cui agiscono. Perché se nello stesso anno in cui mi dicono che non ci sono i soldi per fare il microcredito alle imprese, mi dicono attraverso gli atti che ci sono 4 miliardi di euro per sbloccare le piattaforme petrolifere nei golfi più belli che abbiamo in questo paese, significa che tu stai viaggiando in un'idea di paese che è quella legata, guarda caso, alle lobby che ti finanziano. Se noi siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, dobbiamo ringraziare marchionne o il 99% di piccoli e medi imprenditori che in questo paese lavorano ogni giorno al Made in Italy, all'artigianato o agli altri settori. E allora spiegatemi perché, e io sono di Pomigliano d'Arco, vedo sempre andare nella direzione di questi grandi stabilimenti, grandi flussi economici tra casse integrazioni e tanti altri corsi di formazione all'interno delle aziende, conversione dei macchinari, miliardi di euro verso queste grandi aziende, che poi quando le cose non vanno bene, se ne vanno all'estero, delocalizzano e non restituiscono neanche un euro e ovviamente fanno perdere posti di lavoro. È una questione di libertà, lo diceva prima Mattia, è quello che sta avvenendo adesso nella sanità. Hanno fatto un taglio di 2,3 miliardi di euro a cavallo tra luglio e agosto, non se ne è saputo niente perché per quanto noi gridassimo in aula, giustamente era un periodo in cui gli italiani volevano riposarsi un attimo e guarda caso, proprio in quel periodo vanno a tagliare 2,3 miliardi di euro alla sanità e lo chiamano patto per la salute. Il patto per la salute farà sì che oltre 200 esami ospedalieri, sanitari, non si potranno più fare in questo paese passati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma dovranno pagarli i cittadini. Secondo un criterio, se non stai veramente male non puoi fare l'esame. Io rispondo, ma come faccio a sapere se sto male, se non faccio l'esame, fatevi un'attacca al cervello, fatevi un'attacca al cervello, governo Renzi e ministri vari, perché con la scusa degli sprechi ci dicono che hanno tagliato soldi alla sanità, ma io non ho ancora visto tagliare il miliardo di euro di auto blu che ci costa della sanità soltanto, non ho visto tagliare gli stipendi ai maxidirigenti nominati dalla politica in questo paese, non ho visto sostituire ai soliti farmaci, dei soliti noti fornitori di case farmaceutiche, farmaci alternativi che costano molto di meno. La farmacia ospedaliere è uno dei posti da aggredire per fermare gli sprechi, però alla fine quello su cui poi si ripercuotono sempre questi tagli sono gli esami, quindi la prevenzione anche e i posti ospedalieri. Io ho gente della Terra dei Fuochi che vengo da quella zona che mi scrive e dice ormai nelle strutture convenzionate si è raggiunto il tetto massimo a luglio, non possiamo fare più gli esami, quelli che riguardano appunto la prevenzione perché lì siamo ancora di più poi ogni regione ha la sua Terra dei Fuochi, lì siamo ancora più sotto l'esame, dobbiamo farci esami continuamente e loro dicono dovete recarvi solo nelle strutture ospedaliere pubbliche perché in questo momento i soldi per gli esami fatti sui centri convenzionati non si possono fare più, sembra una cosa bella, se non fosse per il fatto che le liste d'attesa si sono allungate di 7 mesi, di 4 mesi, di 3 mesi e se io ho un tumore lo devo scoprire domani, non tra 3 mesi e quindi che cosa succede? Che il cittadino si rega nella struttura privata a pagare 1000 Euro, io ho la lettera di una persona, l'ho pubblicata oggi sulla mia bacheca, che ha aperto un mutuo per sostenere le chemioterapie, ha aperto un mutuo per sostenere i suoi esami di prevenzione, perché? Perché sa benissimo che se aspettasse le liste d'attesa probabilmente morirebbe prima di quando gli fanno l'esame. Allora questo modo di agire è un modo di agire legato ad un'idea di paese che non ci appartiene. Noi cerchiamo di spiegarlo sempre di più che cosa vogliamo fare, anche un evento come questo, vi ha spiegato come si possono utilizzare meglio gli strumenti che ci sono e come crearne di nuovi per dare nuove opportunità alle persone, nuove opportunità ai cittadini italiani. Italia 5 Stelle, che è questo evento che faremo il 17 e il 18 ottobre a Dimola, è un'occasione del genere per spiegare il più possibile agli italiani cosa vogliamo fare al governo di questo paese. Poi deciderete voi se mandarci al governo della città di Roma, al governo della Regione Lazio, al governo italiano, quindi a Palazzo Chigi, questo lo deciderete voi, però il nostro dovere in questo momento è cercare di spiegarvi che cosa vogliamo fare. Italia 5 Stelle non sarà solo un'occasione per parlare da un microfono e far ascoltare le persone, potrete tutti intervenire in delle agora dove si potrà discutere dei temi per tema e soprattutto il mio invito va a quelle persone che non ci votano, va a quelle persone che magari non ci conoscono, va a quelle persone che in questo momento hanno un po' di spiducia in noi, venite lì, arricchite il nostro programma, arricchite la discussione sul tema per esempio del reddito di cittadinanza, su cui ci sono sempre mille obiezioni. Io vorrei dirlo chiaramente, l'obiettivo del nostro reddito di cittadinanza è che nessuno ne abbia più bisogno in questo paese, perché il sistema che c'è negli altri Stati europei si basa su un concetto fondamentale, non hai il lavoro o ne hai uno che non ti permette di arrivare a fine mese, puoi formarti, innovare le tue competenze e entrare nel mondo del lavoro dove serve. Ovviamente è una manovra economica che creerebbe a ritmo ogni anno il 2% in più di PIL, questo da studi che abbiamo fatto. Quindi da una parte cresce la ricchezza nazionale, con le leggi giuste cresce nel posto giusto, crea nuovi posti di lavoro e si reinseriscono le persone. Questo strumento lo utilizzano benissimo negli altri paesi europei. Noi siamo stati secondo me avvenieristici in una cosa, nel dire diamolo solo ai cittadini italiani perché si potrebbe creare un sistema malsano in cui qualcuno ne potrebbe approfittare e allo stesso tempo abbiamo dei flussi migratori che non ci consentono di calcolare a quanta gente dovremmo darlo di stranieri. Guarda caso, proprio in questi giorni l'Inghilterra che non aveva questa barriera, infatti molti ragazzi italiani percepiscono il reddito di cittadinanza inglese, che ha un altro nome ovviamente, sta facendo questa riflessione perché l'Inghilterra è uno dei paesi in Europa se non il primo per migrazione di altri popoli europei. Noi oggi stiamo mettendo a punto questa idea del reddito di cittadinanza già depositata al Senato con tutte le coperture economiche, 17 miliardi di Euro, sembrano tanti ma lo sapete quanto è il bilancio dello Stato, 760 miliardi di Euro al netto degli interessi sul debito, stiamo parlando di circa il 2% di 17 miliardi di Euro, sono circa 800 miliardi il bilancio dello Stato, non stiamo parlando di nulla dal punto di vista macro, è solo che ce lo vogliono far sembrare enorme per due ragioni, una non ci sarebbe più lo scambio di favori, di amicizie di voti che c'è in questo paese perché se tu dai la dignità alle persone, le persone possono agire liberamente e soprattutto è perché lo abbiamo proposto noi, noi glielo abbiamo detto al governo Renzi, mettetelo nella legge di stabilità a dicembre, apriamo subito una discussione, mettiamolo nella legge di stabilità a dicembre e siamo disposti anche a mettere in discussione le coperture, se volete le cambiamo, l'importante è che rimanga l'impianto fondamentale di questa legge che è 9 milioni di italiani che ne hanno diritto e 780 Euro che è la soglia sotto la quale i cittadini non possono riuscire ad arrivare a fine mese e questo significa anche che tutte le pensioni minime le portiamo a 780 Euro e questo sembra una cosa impossibile, sembra impossibile ed è per questo che noi cerchiamo con questi esempi concreti di dirvi che le cose sono possibili, non avremo nessuna credibilità se venissimo qui a dirvi tagliando i costi della politica si può aiutare le imprese, non avremo nessuna credibilità perché ve l'hanno detto tutti in questi anni, noi veniamo qui e vi diciamo abbiamo tagliato i nostri stipendi, stiamo aiutando le imprese, adesso lanciamo la sfida agli altri, tagliatevi lo stipendio e aiutate i posti di lavoro in questo Paese. Per concludere, è lo stesso discorso su ogni cosa, nessuna forza politica ha la credibilità di poter dire delle cose se prima di tutto non agisce di conseguenza, i rimborsi elettorali sembrano una piccola cifra in questo Paese, a questo giro adesso si spartiscono l'ultima tranche di 45 milioni di Euro, sembrano sempre pochi, ce lo dipingono sempre come un'inezia che non risolve nessun problema, 45 milioni di Euro ci consentirebbero di costruire dai 50 ai 60 asili nido nuovi in questo Paese, vista la condizione in cui si ritrova il welfare, l'assistenza alle famiglie credo che sia qualcosa di più, piuttosto che pagare le campagne elettorali a persone che per me possono fare campagne elettorali, per me i partiti devono fare campagne elettorali, ma si facessero finanziare da chi ci crede nel loro partito, la sfida che lanciamo al Partito Democratico, a Forza Italia, alla Lega, fatevi finanziare le campagne elettorali da chi crede in voi, perché noi nel 2013 abbiamo rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali, ma nessuno ricorda che abbiamo avuto 700 mila Euro di piccole donazioni, 20 e 30 Euro dai cittadini e ne abbiamo utilizzati solo 300 mila perché non ci servivano tutti i 700 mila, il resto li abbiamo dati ad un comune della provincia di Modena che ci ha costruito una palestra di una scuola con quei 700 mila Euro. Allora, se veramente ci vogliamo raccontare un altro Paese bisogna fare gesti concreti, noi abbiamo iniziato e vi raccontiamo la nostra idea di Paese con quello che facciamo ogni giorno, è più di un segnale, è un metodo, questo metodo adesso lo applichiamo a 130 parlamentari, domani lo potremo applicare a tutte le strutture dello Stato. Se volete conoscere meglio questo ambiente, se volete conoscere meglio il Movimento 5 Stelle, veramente vi consiglio di venire a Dimola, sembra uno spot, però è in uno di questi eventi che ho conosciuto questa realtà, è quando vedi tante persone, dal parlamentare all'attivista, al cittadino curioso, che cominciano a discutere tra di loro in un gazebo, in un posto pubblico e portano sempre un valore aggiunto all'idea, alla proposta. Qualche giorno fa in una trasmissione TV mi prendevano in giro perché dicevano voi avete questi metodi di selezione che portano persone inopportune e io raccontavo, non l'ho citato, io raccontavo la storia di Mattia, che è un imprenditore del Veneto che è arrivato nella Commissione Attività Produttive, dopo 30 anni che quella norma non si era fatta, ha detto, signori cari, siccome ci sono imprese che devono avere soldi dallo Stato e voi volete le tasse da quelle imprese, noi gli facciamo pagare le tasse finché in questo momento noi colmate i debiti che avete nei confronti di quelle imprese. La norma che ne è uscita fuori è la norma che congela le cartelle esattoriali di Equitalia, ma guardate che quando l'hanno raccontata in Commissione Attività Produttive, tutti quanti sono rimasti un po' perplessi, perché non è che non ne avevano mai sentito parlare, la verità è che stanno a 30 anni lì dentro e non sentono più parlare di nessun problema concreto. Allora i nostri metodi di selezione cercano di portare, la vera sfida che cercano di mandare avanti con tutti gli errori del caso, è portare gente comune, normale, che viene dai problemi all'interno delle istituzioni, perché solo così possiamo veramente risolvere i problemi. E' vero, ascoltare le categorie è fondamentale, però se chi ti sente non ti ascolta, poi alla fine non si riesce ad ottenere il risultato, perciò noi abbiamo bisogno anche nei rappresentanti delle istituzioni di persone che vengono dai problemi, che in rete con le persone che vivono i problemi ogni giorno nel loro mondo del lavoro, possono realizzare dei buoni prodotti, prodotti giuridici, prodotti legislativi che poi ricadono sulle imprese e in generale sui posti di lavoro. Io mi fermo qui dicendovi soltanto questo, che il microcredito verrà migliorato, avremo dei miglioramenti, adesso Carla vi racconterà qualcosa dei prossimi passaggi probabilmente, non è lo strumento che non funziona perfettamente, ma è uno strumento che stiamo portando avanti nonostante molte resistenze degli istituti di credito e nonostante i tentativi di sabotaggio politico che potete immaginare. Non era mai successo nella storia dell'Occidente che forze politiche si dimezzassero gli stipendi per far partire nuove occasioni di lavoro. Io ho proposto una cosa proprio per cercare di raccontarlo il più possibile che d'ora in poi a tutte le trasmissioni TV che partecipiamo, partecipiamo in diretta dalle vostre attività commerciali, perché se i cittadini non vedono realmente quello che facciamo, non vedono realmente che l'abbiamo fatto, giustamente non ci credono, perché questa è una cosa a cui pochissimi credono, perché è una cosa a cui non siamo stati abituati quando invece dovrebbe essere la normalità. Tu non dovresti ringraziarci per quello che abbiamo fatto, perché tra l'altro sono soldi tuoi, delle tasse che paghi con la tua attività che contribuiscono a pagare gli stipendi dei parlamentari e siccome non sono in media per niente con lo stipendio medio dei cittadini italiani, è giusto tagliarlo per oltre la metà come facciamo noi e infatti mettiamo insieme oltre 10 milioni di Euro in due anni e mezzo. Il nostro obiettivo su Equitalia è abolirla. Questo non vuol dire che nessuno paga più le tasse, per carità, però se noi il problema di chi è debitore, di chi è creditore nei confronti anche di un privato, è debitore di tasse nei confronti dello Stato, è che quelle tasse non restano le stesse, cioè continuano a maturare agi e interessi per le quali quando anche tu avrai incassato il credito che vanti non ti basterà pagare le tasse. Questo problema nasce dalla natura stessa di Equitalia che è una SPA controllata pubblica ma si atteggia come un ente privato e tra l'altro ha una serie di meccanismi per i quali banalmente il commerciante che ci deve 100 Euro di tasse si ritrova con una cartella esattoriale tra 6 mesi o tra un anno di anche 6.000 Euro se non stiamo attenti. Allora noi su questo abbiamo una proposta di legge, ci riproveremo in questa legge di stabilità a portarla per la quale la riscossione fiscale deve ritornare all'ente pubblico che è l'agenzia delle entrate applicando le regole e cerchiamo di applicare dove governiamo. Noi governiamo in 12 comuni italiani in cui Equitalia non c'è più, l'abbiamo cacciata da tutte e 12, non abbiamo rinnovato nessuna delle convenzioni e cerchiamo di fare un lavoro fondamentale che è quello della riscossione coscienziosa. Se tu mi devi 100 Euro è vero che se ne approfitti della mia cortesia io ti metto more, agi e interessi, però l'obiettivo è rateizzarti quello che non riesci a darmi in modo tale che tu me lo possa dare senza però che l'importo aumenti. Questo stiamo cercando di farlo con enormi difficoltà nei comuni dove governiamo perché interessa solo le imposte locali e ovviamente deve lavorare nell'ambito della legislazione del quadro nazionale, però noi a stretto giro proveremo anche a questo giro a togliere di mezzo il meccanismo folle che c'è sulla riscossione in Italia, che a quel punto probabilmente non avrà bisogno neanche più del congelamento della cartella esattoriale. Avrà sicuramente un maggior controllo e anche l'imprenditore sarà incalzato dall'ente pubblico a pagare, oltre un certo limite poi ci saranno delle more ma non saranno quelle usuraie. Anche perché questo meccanismo, così rispondo anche alle altre domande e non intervengo più, questo meccanismo non è che è stato efficiente, perché Equitalia non ha riscosso 400 miliardi di Euro di tasse, di cui 360 sono ancora crediti esigibili. Quindi significa che, vi ricordate, 760 miliardi di Euro è il nostro bilancio dello Stato al netto degli interessi sul debito. Equitalia non ha riscosso 400 miliardi di Euro, quindi stiamo parlando di cifre che potrebbero rimettere in carreggiata, probabilmente il turismo, ma anche tutto potrebbero rimettere in carreggiata. Però in realtà sono delle cifre che per come si è comportata Equitalia sono difficilmente da recuperare, però se una cosa non funziona o bisogna correggerla o bisogna eliminarla, per noi bisogna eliminarla in questo momento. Quindi purtroppo ti diamo una risposta che è più macro, però è l'obiettivo fondamentale, perché poi nei rapporti tra privati c'è la questione della riforma e della giustizia, perché se tu devi fare un recupero crediti devi essere in grado di farlo velocemente. Tutti stanno mettendo mano alla giustizia, ma nessuno sta dicendo che se avessimo più cancellieri nei tribunali, più personale, più orari d'apertura e più magistrati faremo le cose più velocemente. Invece tutti mettono mano alla legge sulle intercettazioni telefoniche, alla legge sulla prescrizione, che per carità per alcuni reati è importante, ma in questo momento noi abbiamo bisogno di personale nella giustizia, è quello che portiamo avanti noi, cioè di investimenti. Però se tu aumenti il personale della giustizia c'è più probabilità che vada ad arrestare un politico e questo per alcuni partiti è un problema grosso. Volevo rispondere sulla questione della medicina, quello che dici tu è vero, cioè noi qui non stiamo santificando i medici di famiglia soprattutto, i medici del territorio, noi stiamo dicendo che è rischiosissimo dire io ti metto un tetto per gli esami e decidi tu medico di base discrezionalmente come gestire questo tetto, oltre il quale non ne puoi più prescrivere. Questo è un meccanismo a rovescio nel quale ci si lava le mani scaricando i rischi totali sull'utente della sanità, sul malato o in generale il potenziale malato. Su questo sono d'accordo che bisogna fare una riorganizzazione anche delle prescrizioni facili, ma questo lo dico sempre, il pesce puzza dalla testa, se i dirigenti delle ASL sono nominati dalla politica e molto spesso vengono messi lì trombati della politica, non puoi fare una politica delle ASL che funzioni, se invece iniziassimo a selezionare a tempo determinato perché non vogliamo creare burocrati a vita, per concorso i dirigenti delle ASL viene eletto un Presidente di Regione, fa il concorso, fa delle regole, la Commissione di concorso la espleta un'altra Regione, non la Regione del Presidente che bandisce il concorso e così quello a tempo determinato che arriva lì è indipendente e gestisce per risultati, punto. Poi se fa dei buoni risultati matura anche un punteggio per il prossimo concorso. Quindi questo, il nuovo codice degli appalti, non so chi lo chiedeva prima, il nuovo codice degli appalti è in alto mare, nel senso che è stato approvato al Senato, adesso è arrivato alla Camera, è in Commissione ed è un codice nel quale abbiamo messo mano più volte, nel senso che questa proposta di legge l'ha seguita molto Andrea Cioffi, che è un nostro Senatore, Commissione Lavori Pubblici del Senato, lo puoi contattare anche via Facebook, risponde a tutti, ed è la persona che più se ne è occupata, principalmente limitando le disfunzioni del subappalto, ma soprattutto mettendo mano anche a tutta quella che è la materia delle somme urgenze, che è diventato nei comuni il nuovo meccanismo per le tangenti e il voto di scambio, cioè in ragione della sommorgenza si attribuiscono appalti senza passare per gare. Poi ci sono le varianti in corso d'opera che conosciamo benissimo, c'è una ditta che si presenta all'appalto, dice di fare un ribasso del 30%, poi in corso d'opera gli fanno una variante che in realtà quel meno 30% diventa più 10% e quindi in realtà si è solo giocato sapendo che l'amministrazione avrebbe barato. Però ci sono tante altre cose che conoscete meglio voi, sulle quali abbiamo proprio un tavolo aperto, quindi ti invito a contattare Andrea, però il codice degli appalti è la legge più modificata della nostra storia, ci hanno messo in mano 670 volte il codice degli appalti, devastandolo, creando delle stratificazioni, infatti il nuovo codice in realtà è un test unificato che dovrebbe cercare di mettere prima di tutto un po' di ordine per quello che ne so. Infine, volevo aggiungere una cosa sul microcredito, prima c'era una persona che diceva non abbiamo fatto ancora la domanda perché non abbiamo trovato la banca. Non c'è problema se scade la domanda, è rinnovabile all'infinito, quindi voi potete fare la domanda, questo lo dico ma non per rispondere a lei, in generale ci sono due cose che ci danno un vantaggio sul microcredito, i soldi sono tanti perché la leva finanziaria che si è innescata più un buco che hanno trovato i nostri uffici portano nel microcredito non 10 milioni, che sono la parte iniziale che ci abbiamo messo noi, ma circa 2 miliardi e mezzo. Quindi abbiamo un mare di soldi che sono su un fondo vincolato, che noi stiamo migliorando nell'accesso e che soprattutto si basa sul fatto che si fa la domanda sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si restituisce il voucher e si va in banca per iniziare la pratica di delibera. Sulle banche, Carla ci sta lavorando molto, anzi stanno arrivando anche altre banche, prima si diceva perché Unicredit, in realtà oltre alle banche piccole o alle BCC, l'unica grande banca italiana che ha avuto accesso a questo sistema, che si è resa disponibile perché non era obbligatorio per legge, la legge non l'abbiamo fatta noi sul microcredito, è un testo unico bancario del 2011, l'unica banca che si è resa disponibile tra le grandi è Unicredit, quindi è quella con più probabilità, che i cittadini avranno più probabilità di averci a che fare. Il problema è che ci sono direttori che veramente ci fanno mettere le mani nei capelli, perché a volte non sanno, a volte fingono di non sapere e propongono un altro prodotto finanziario di Unicredit, quindi che cosa abbiamo fatto? Come diceva Carla, siamo andati al vertice di Unicredit e gli abbiamo detto adesso voi facciamo un patto, ci dite quali sono le cose che devono rispettare i cittadini e quelle che devono rispettare i vostri direttori di filiale, la mettiamo sul sito internet e così chiunque vuole accedere al microcredito si stampa il foglio che ha Carla qui in fase di drafting e lo porta al direttore di filiale, gli dice guarda questa è la tua banca che ti dice questa cosa, poi mi pare che stiano arrivando anche altre banche grandi che daranno nuove occasioni, poi c'è un'agenzia dell'euro che dice evoca tranquillamente Sì sì sì, allora io tutte le banche che vi servono le trovate sul sito microcredito5stelle.it la più grande è Unicredit ma pari grandezza Unicredit e arriveranno delle altre su cui sta lavorando Carla che veramente ringrazio perché si sta veramente dando, diciamo che si sta avvelenando un po' il fegato a cercare di, le segnalazioni che ci fate sono fondamentali perché sono la nostra potere contrattuale, perché se ci arrivano segnalazioni, alcuni di voi ci hanno addirittura inviato delle registrazioni di colloqui con direttori di filiali veramente indegni, ma non i direttori di filiali, i colloqui e quello che nel risultato è che a noi ha dato una grande mano nella fase di contrattazione poi con i vertici bancari. Noi abbiamo scelto di non maneggiare questi soldi, lo ha detto Carla prima e lo ripeto ancora una volta perché noi non crediamo di essere perfetti, 10 milioni di Euro intaccano qualsiasi animo umano, noi abbiamo preso i nostri soldi, li abbiamo messi su un fondo pubblico e attraverso una procedura legislativa voi potete accedervi, ci sono delle regole dello Stato per accedere ed è la garanzia che noi quei soldi non li maneggiamo perché tutto può succedere, poi poteva anche non succedere nulla, però anche i criteri discrezionali preferiamo che li gestisca lo Stato piuttosto che il Movimento 5 Stelle.